In realtà engagement per noi vuol dire riuscire a fare in modo che le persone lavorino qua con una grande voglia e credendo in un progetto che è un po' il progetto di questa azienda, perché questa azienda è un'azienda che ha 183 anni e a noi piace chiamarla un'azienda, come dire, yin e yang, quel famoso simbolo che in realtà riunisce all'interno di uno stesso significato la tradizione, tutta la forza di 183 anni di tradizione, ma anche la forza dell'innovazione. Le sfide dell'engagement in questo modo di lavorare così diverso in questo momento in realtà sono tante. Io credo che questa situazione ci permetta di lavorare in un modo diverso, lavorare da remoto, lavorare senza essere fisicamente uno in presenza dell'altro, però questo vuol dire cambiare radicalmente l'approccio perché vuol dire, per esempio, riuscire a lavorare misurandosi per gli obiettivi che si raggiungono piuttosto che per il numero o per la quantità di cose che si fanno.